Ciao a tutti ragazzi e ragazze ho fatto questa breve intro per dirvi che ho dovuto tagliare dei pezzi di video perchè youtube caricando video dal cellulare non mi accetta i video più lunghi di 15 minuti quindi questo durava 17 e ho dovuto tagliare alcune parti mi dispiace per questa cosa quindi spero mi possiate scusare non è successo niente di importante come vedete in questo video senza questa parte d'intro durava 13 minuti quindi ora voi non lo potete vedere in realtà si però dettagli mi dispiace tantissimo a breve caricherò anche un video di Nintendogs più Cats vi saluto e vi lascio al video ciao ciao a tutti amici e amiche di Nintendogs quindi Nintendogs più Cat e Tomodachi Life oddio la memoria poverta e benvenuto a questo nuovo video è da tipo qualche mese che non faccio un video tipo l'ultimo episodio di Tomodachi Life era a maggio del 2015 e maggio del 2016 è fra due mesi e... si è da un po' di tempo vabbè siamo al quarto episodio di di Tomodachi Life non gioco a Tomodachi Life da circa gennaio di quest'anno quindi neanche tanto essendo che è marzo oddio per favore non cadere voi non potete capire come io stia tenendo il mio telefono perchè sono già stanno col telefono e questa e praticamente sto usando il libro di Harry Potter e con questo ho detto tutto allora siamo su Tomodachi Life come potete ben capire e non so cosa faccio cioè giochiamo un po' così a caso allora vediamolo appena acceso non so che ci si ok questa è la classica cosa che succede sempre questa sono io non so perchè sono messa con così così ho prima dettagli 270 allora perdimi ah e so oggi registrarò anche un video di nintendo perché se da quello lì è da un po' di più di tempo che noi ci gioco perchè non trovo il a Ah, è proprio il nostro nostro. E' un po' più importante. Ok, è bene. Ok, è bene. Ok, è bene. Ok. Ok, è bene. Ok, è bene. Ok. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' un po' cosa vogliono gli abitanti Per esempio uno è arrabbiatissimo, solo per dire una polaccia, però non farò Mancavano due posti che non credo la recupero mai perché sono cattiva Allora, vediamo un po' Uno è tipo muo' assamendo, piangente Mi è apparso un avviso nel telefono, che bello! Allora Ehm Che faccio? Ok Si sono attivati un po' tutti Allora Allora Andiamo L'ho fatto tutto perché mi divertiva Si giochiamo con te Non so come fare Vabbè E' Dario l'unico maschio La risposta è Quanto sono brava C'è anche Maschio tra virgolette dai E' Paolino E' Paolino Lo ricordo perché Chissà quanto tempo non si fa una dolce Paolino Per rimanere sempre rosa Oddio E' Harry E' Harry perché Allora Vedete c'è Oni Oni ha i capelli gialli tinti Rihanna è di colore E' Harry è bionda credo Quanto sono Quanto sono Quanto sono Contraturazione Ci utilizziamo anche da mangiare perché sono in buono Puoi scegliere solo una di queste 3 scatoli No lo scelgo adesso In mezzo è una gomma pane Ehm Ehm Ti do anche la perla Parla No ti do il panino Ok 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 Non mi piace parlare alle spalle della gente Già è una cosa molto brutta Poi Poi Questo faccio Stamandola Ehm Stamandola Allora Poi 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 Andiamo da Stem poverina quella se ci dice vai a fare pace e finita ora lascia per... non lo so io però vado a fare pace non ho cominciato a dire quindi non avrò succeduto a scusarmi da almeno da mangiare non sovi perché devi dirti no? perché vedi il fuoco si era un po' placato no non si è placato scusatemi bene cerchiamo di risolvere questo guasto poi ci mandiamo vediamo se Trixie vuole dare una mano ah lo so sono un po' più raro vorrei presentarci io Andrea Quartu che ne pensi ieri? ecco quello che vuoi dobbiamo spregarci eeeh va bene allora che ne dici di provare con Gianfranci? no non conosco altre persone per adesso lasciamo bravo di mandarmene ti darei anche da mangiare ma scusami ma sono di fretta forse è Andy che è una brava persona aspetta non ve l'ho fatto vedere ci aiuterà si sono io non ho capito neanche se ho i capelli quindi mi dovresti riconoscere grazie Garnel dai una mano brava persona che sei ti do anche da mangiare dopo perchè sei andato oddio per me no per me non fammi pace o forse si per me non so no 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 visto? povero Tommy cioè no povero Andy però no io ti dobbiamo mangiare ci hai provato quindi te lo do però eh dovrei riuscirti adesso è depresso oddio mio però come ti deprime niente da fare ok non sia depresso ehm vediamoci il pollo più o meno brutto bene proviamo a vedere se riusciamo a trovare qualcun altro per chiudere il video quanti le ho? uno due tre quattro cinze sette otto è un stipolo qua Ah, ne manca uno, vabbè, io ne sono specchi a scala Ok Prego La manetta è l'oculador Abbiamo anche il bagno di pugni Ma ne mancano due E poi non ne posso più Ok, proviamo a vedere se c'è qualcuno C'è qualcuno che vuole evitare? No Vediamo se Pagano la bastella Pagano la bastella Pagano, la bastella Pagano la bastella Non ne ho incavolata, stai inserita a commentare Com'è? Ah, la celestia Ah, la celestia, scusate Quando Shalun era nel guai, non ci ho pensato due volte a correre sui È la sua migliore amica, Shalun ok ti do ma niente basta andiamoci andiamo un secondo al banco dei pegni per vedere un po' mi sa cos'è tutto infatti niente allora bene ragazzi e ragazze e persone carine spero che questo video vi sia piaciuto ho il cellulare al 10% quindi lo vi lascio probabilmente questo video uscirà domani spero non lo so ci siamo in fondo oggi come detto è il 13 quindi se uscirà questa settimana sarà già pronto dopo questo video probabilmente questa settimana caricherò anche quello di nintendo che in questo giorno cercherò di migliorare un po' tipo per esempio di allenarmi di farmi un rep tra poco finirà anche la questa serie di nintendo credo molto probabilmente e inizierò quella bulldog o barboncino scrivetemi qui sotto nei commenti dove devo iniziare consigliatemi qualcosa da fare qui sotto nei commenti sempre su cosa fare su tonaci life magari avete due opportunità opportunità se mi vi inviate su google più ho fatto un video per mostrarmi il vostro qr code che vi aggiungo nella video nella video un bacione a tutti e ciao no c'è il mio libro di harry potter quanto bello no 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 no